Nessun dorme però molto spesso penne, intenzioni o stilografiche qualche rara volta se c'è uno strumento che particolarmente mi aggrada in questo caso è un roller perché ha una sensazione di scrittura che mi ricorda veramente da vicino quello che mi offre una stilografica nella fattispecie quello che vedete è un roller parafernalia a cabrio quindi con una colorazione cioè di un inchiostro nera ha un satinato arancio bellissimo, secondo me ma ce n'è almeno voi in una decina anzi forse anche di più, ci sono tantissimi colori, c'è anche il modello in titanio è una penna molto piccola nel momento scrittore è molto piccolo, per farvi un esempio ho messo vicino a una Pelican M150 vedete è ancora più piccolo quindi siamo veramente in un ambito mini, di fatti mi sta appena e mi supera di poco l'incavo della mano ma riesco a poi questa serie di incavi ricavati nel fusto nella parte qua cioè fusto punto scrivente insomma un tutt'uno perché poi in plastica c'è la parte di clip che funziona peraltro assai bene questa è il refill che si cambia abbastanza facilmente si estrae si estrae qua vedete poi si tira fuori ma quello che piace a me è che nonostante sia molto corta riesco a usarla veramente veramente bene e poi ho una sensazione di scrittura di pattinamento sul foglio di precisione di un uso veramente da gioia di scrittura ecco per quello per cui ne parlo perché comunque è uno strumento seppur non è una stilografica quindi insomma gli manca qualcosa di importante però comunque per me è una gioia usarlo ed è veramente interessante guardate ecco la mitica K mi è andato un po' in debito di ossigeno capito perché lo faccio però è un'accelerazione veramente cattiva la rifacciamo adesso l'ho fatta però vedete è una lettera molto impestata per qualsiasi strumento quindi mi ha messo in difficoltà anche però insomma nessuno normalmente scrive accelerando come ho fatto io se tenete una condotta di scrittura tranquilla è una penna che vi darà solo grandi soddisfazioni io spesso me la sono portata anche dietro perché veramente sta dappertutto non mi ha mai tradito è un roller che boh sarà due anni che lo uso vabbè non lo uso spessissimo ma mai problemi alle ripartenze sempre pronta all'uso vedete assolutamente nessun problema in un uso corrente ok quindi andate tranquilli e che mi diverto vedete mi diverto un po' a mettere in soggezione e a creare problematiche alle penne però è veramente un roller un roller che si fa rispettare ed è veramente una sensazione di scrittura scrive benissimo poi non lo devo dire io la parafrenaglia anche se fanno poi inchiosti stilografici hanno in produzione anche alcune stilografiche ecco non dubito che magari prima o poi cederò al fascino del design di queste particolari penne perché loro ne fanno una questione al top del design quindi la mitica revolution quella a tre dove penso lo sappiate che è fatta così in mezzo c'è la parte diciamo scrivente che contiene la stilografica la birra o la matita insomma quello che è quella che è gestita con una con tre cilindrotti metallo tenuti insieme che formano questa presa triangolare no poi penso che non sia al massimo dell'erogromia sicuramente insomma non ho già sentito tante però insomma il fascino del design ha anche anche la sua perché voglio dire se parliamo di quello non so anche la stessa Aurora Tesi quella che ha una sezione fatta così è bellissima esposta al MoMA di New York ma a me scappa dalle mani ogni tanto ok è una penna biro no penso che molti di voi la conoscono ma giusto per dirvi che comunque il design ci porta un po' fuori da quelle che sono le strade poi d'uso della penna no spesso la si prende perché è bella perché ci piace perché ha un design particolare no le parafernalie hanno quel particolare di dare e strizzare e strizzare molto l'occhio ecco vi dico che questa è bellissima proprio ma ce n'è anche ce n'è una adesso non mi ricordo il nome dove tutto praticamente la clip quella è una biro ed è bellissima perché tutta clip e poi esce fuori la punta della mia biro no cioè delle soluzioni tecniche sposate a un design di alto livello che le rendono secondo me molto belle e simpatiche ma in questo caso oltre che bella e simpatica scrive benissimo ve lo ripeto di nuovo cioè no non mi fa rimpiangere le sensazioni d'uso di un'ottima stilografica questa qui è una roller che vale veramente in tutti i sensi sia appaga la vista ma anche insomma la scrittura e con questa ultima considerazione finale vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti